Ciò di cui voglio parlarvi oggi è un fenomeno estremamente inquietante che ha preso piede nel corso degli ultimi anni secondo tanti telegiornali e secondo tanti post della polizia che nel corso degli ultimi 2-3 anni ha spesso avvisato i genitori dei pericoli di questa strana e inquietante challenge. Si chiama Challenge delle 48 ore e la sola descrizione fa caponare la pelle. Anche se a prima vista può sembrare una semplice bravata adolescenziale ciò che nasconde questa challenge sono dei rischi davvero concreti e soprattutto molto diversi da quelli che probabilmente vi aspettate. Le persone infatti molto spesso non soltanto ci deludono ma mettono su delle cose davvero pericolose. E questa è l'unica recensione che posso dargli. Una stella perché di meno non si può. La trovate su Pampling. Utilizzando il mio codice sconto Gematria non soltanto risparmierete su tutto il sito ma otterrete anche un paio di calze in omaggio. Prima di mandare la sigla vi ricordo semplicemente che se questa puntata vi piacerà potete tranquillamente farmelo capire con un like iscrivendovi. Ma detto questo, sigla! E poi cominciamo con tutta questa faccenda della Challenge delle 48 ore. Buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sotto Bosco. Parlavamo della Challenge delle 48 ore, una delle sfide più pericolose che ultimamente pare si sia diffusa tra adolescenti e preadolescenti negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La dinamica di questo giochetto è molto semplice. I partecipanti devono sparire per 48 ore e mano a mano che la loro sparizione viene notata da più persone, dopo aver fatto perdere completamente le proprie tracce, chi prende parte alla sfida guadagna punti ogni volta che il suo nome viene menzionato sui social media o magari dai familiari e amici che cercano disperatamente di ritrovarli. Riassumendo quindi, più persone parlano di questa scomparsa e più punti si fanno, creando una sorta di competizione sulla macabra scomparsa e soprattutto sul terrore che si può mettere addosso ad altre persone. Immaginate un attimo l'angoscia di un genitore che scopre che il proprio figlio è sparito nel nulla. Nessuna traccia, nessuna chiamata, nessun messaggio. La prima reazione ovviamente è il panico. Nel momento in cui scopri che tuo figlio non c'è più e non si riesce a trovarlo da nessuna parte, le prime cose che pensi sono sicuramente il fatto che o sia stato rapito oppure che sia successo qualcosa di terribile. E mentre la famiglia denuncia la scomparsa alla polizia, inizia una corsa contro il tempo per ritrovare il giovane scomparso. La notizia, come giusto che sia, si diffonde il più possibile per massimizzare le possibilità di ritrovare questo ragazzino. E si diffonde rapidamente sui social, con amici e conoscenti che condividono tantissimi post e lanciano appelli per ritrovarlo. Dietro questa enorme mobilitazione però si nasconderebbe, secondo tutti questi avvisi, nulla che assomiglia a un vero pericolo per il ragazzino, bensì un gioco. Un gioco che però ha delle conseguenze terribili per tutti coloro che ne vengono coinvolti. Ora, di questa sfida si parla già dal 2010. È un qualcosa che ovviamente non è nuovo, ma ogni tanto viene riproposto, ogni tanto rispunta fuori per qualche motivo. Piattaforme come Facebook, TikTok, Instagram hanno alimentato la propagazione di questo tipo di challenge, spesso senza alcuna consapevolezza dei pericoli veri che queste sfide possono generare. Secondo questi avvisi, infatti, tanti ragazzi vedono questa challenge, o comunque sia challenge simili, come delle prove di coraggio da affrontare per validare la propria identità, o perlomeno per farsi rispettare nel gruppo dei pari. Un modo per guadagnare popolarità tra i coetanei è dimostrare di essere disposti a spingersi ben oltre i limiti. La realtà però è molto diversa, e tante persone non se ne rendono conto. Partecipare a questa sfida non solo mette a rischio la sicurezza fisica dei ragazzi, ma causa anche un trauma emotivo enorme per i familiari e gli amici che per 48 ore vivono nel terrore di non rivedere più il proprio caro. I genitori, infatti, ignari del fatto che si tratti solamente di un gioco, contattano immediatamente le forze dell'ordine per ritrovarlo. Le storie di genitori disperati sono tante e sono state raccontate in qualche TG americano e britannico. Ci sono madri e padri che raccontano di aver passato ore in sonni temendo il peggio, controllando continuamente il telefono nella speranza di ricevere una chiamata, o perlomeno un messaggio. E questo ovviamente, anche soltanto da pensare, è terrificante. Ma perché i ragazzi sarebbero attratti da una cosa del genere? È una domanda che dobbiamo farci. La risposta ovviamente non è semplice. Da un lato c'è l'adrenalina che deriva dal sentirsi al centro dell'attenzione. Il fatto di vedere il proprio nome diffuso sui social, mentre la propria scomparsa diventa virale, può far sentire importanti e dare un senso di potere. D'altro canto ci sono anche questioni come il senso di appartenenza, il senso del volersi far apprezzare all'interno di un gruppo, anche se in maniera molto disfunzionale. Insomma, questa roba, secondo tutti i massimi esperti, aumenterebbe il senso del sentirsi coraggiosi agli occhi degli amici. E naturalmente poi c'è anche il fascino del proibito, dell'andare contro le regole e provocare una reazione da parte degli adulti. La cosa che sinceramente però reputo più pericolosa di questa challenge non è neanche la challenge in sé, bensì un qualcosa che tutti quanti stanno sottovalutando da anni e non è un qualcosa soltanto legato a questa challenge, ma tutta una rosa di challenge che vengono raccontate quando in realtà c'è qualcosa di peggio, sempre legato a questa roba. Fino ad oggi non ci sono state ancora notizie confermate di adolescenti che siano scomparsi permanentemente a causa di una challenge di questo tipo. Questo non vuol dire che non ci siano delle conseguenze negative in tutto questo. Innanzitutto, come ha cominciato a circolare questa roba qua? Vi ricordate la Blue Whale e tutta quella roba lì? Uguale. La polizia dello stato del Michigan stava avvisando i genitori riguardo un gioco su Facebook chiamato 48th Hour Challenge che incoraggia i bambini e gli adolescenti a scomparire deliberatamente per due giorni. Il punto però è che queste preoccupazioni, per carità, sono verosimili. Il punto è che sono anche, come dire, infondate. Secondo snoops.com, la challenge delle 48 ore è nient'altro che una bufala. Per chi non conoscesse Snoops è un sito di debunking, di bufale, di storie false e in generale ti racconta la vera indagine che c'è dietro dei feromeni virali. Inoltre, il gioco inquietante sembra essere stato originato nel Regno Unito nel 2015 e istruisce gli adolescenti a nascondersi dai genitori il più a lungo possibile per accumulare like, commenti e condivisioni. Ma questa roba è nata per emulazione di questa roba qua che prima di questi avvisi folli non era mai esistita o magari ci sono stati dei casi di sparizione che poi sono stati associati a questa challenge più per comodità di non dover proseguire le indagini che altro. A meno che non ci sia un'epidemia di disturbi evitanti o comunque di cose del genere, mi sembra molto difficile da credere che un sacco di ragazzini vogliono far male alla gente soltanto per fare dei punteggi vuoti su internet. Non che non sia possibile, il punto è che farla passare come un'epidemia di massa torniamo praticamente al 2017 e non so se vi ricordate. Tutto questo però non è mai emerso effettivamente né nel Michigan né da nessun'altra parte e secondo gli agenti che hanno messo questo post l'unico motivo per cui lo hanno emesso è che una stazione televisiva locale li ha chiamati riguardo alla situazione quindi hanno risposto ma non hanno mai avuto incidenti segnalati lì. Il problema come spesso accade non è tanto il fatto che i ragazzi e i bambini siano stupidi perché non sono stupidi. Il problema è voler fare notizia facendo passare la mia e le successive generazioni come delle generazioni di idioti. I ragazzini non sono stupidi sono molto più capaci di tanti adulti nell'utilizzare internet e soprattutto del rendersi conto di tanti pericoli. Questo è un po' un aneddoto di vita vissuta però c'entra molto. Sono amico di tanti ragazzi, ragazze, antisignore e signore che lavorano nella polizia postale. c'è una piccolissima percentuale di ragazzini che ha problemi con internet assolutamente non comparabile con quella che è l'enorme mole di adulti che invece fanno di tutto. Quindi lezioni di oggi no, i ragazzini non spariscono per 48 ore per fare dei punteggi perché questa qui è una bufala che è stata messa su semplicemente per fare notizia e chi l'ha messa su dei ragazzini assolutamente no. Quindi niente, questa era un po' un'esplorazione di questa challenge. non mi avete chiesto di parlarne ma ne ho voluto parlare io perché mi andava. Quindi questa puntata nasce semplicemente da una mia piccola curiosità. Fatemi sapere ovviamente se l'avevate mai sentita nominare fatemi sapere che cosa ne pensate e la puntata di Sottobosco di oggi può anche volgere al termine. Io vi ringrazio per essere stati qui con me qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi e noi ci vediamo alla prossima. Sottobosco Sottobosco Sottobosco